ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di around the table sì lo scorso weekend sono stato al comicon di napoli quindi oggi andremo non al comicon ma off topic e faremo una piccola come sa bene chi segue questo canale da un po di tempo io amo definirmi un nerd a 360 gradi nel senso che a me piace tutto il mondo nerd ho cominciato la mia carriera per l'appunto da nerd leggendo i fumetti in primis topolino poi sono passato ai comics i fumetti americani e di questa mia passione ne abbiamo parlato anche qui sul canale un paio di volte mi sono anche affacciato al fumetto italiano prediligendo il fumetto indipendente quello disneyano a quello ad esempio bonelliano ho sperimentato le cose ma non mi è mai entrato nel cuore ovviamente leggo e ho letto tantissimi manga manga di cui non abbiamo parlato direttamente ma di cui vi ho parlato per sommi capi quando vi ho raccontato gli anime che stavo rivedendo ovviamente gioco anche videogiochi piccoli videogiochi indie per evitare i titoloni se no se dovesse anche giocare tantissimi videogiochi non avrei più il tempo per fare niente quindi ogni volta che vado in fiera quando andavo al lucca comics quando andava a romics quando vado all'arfe quando vado al comic con mi interessa tutto quello che ha da offrire e proprio per questo spesso crescendo ho sempre prediletto le fiere che avevano un'offerta culturale interessante mostre panel incontri e per questo ho sempre reputato che lucca comics comic con e il neonato arf ma avrà dieci anni sono le fiere più interessante e proprio di questo aspetto culturale oltre ovviamente vi farò vedere anche le poche cose che ho acquistato vi parlerò in questo mio piccolo comic con recap ma andiamo con ordine ogni anno comic con elegge un magister che si occupa di dare la sua impronta al festival dell'anno in corso per l'appunto il ventiquattresimo per l'occasione è stato scelto igort un autore editore una vera e propria grande personalità del fumetto italiano un uomo che ha una cultura enorme e che l'ha sempre imposta nelle sue opere e anche quando è deciso di diventare editore forse alcuni di voi l'hanno visto in alcuni video di tik tok che si chiamano scuola di fumetto in questi video lui ha raccontato le sue esperienze anche quelle in giappone i magister sono una sorta di direttori artistici per quell'edizione di comic con dandogli un'impronta particolare scegliendo delle mostre partecipando a dei panel in realtà il comic con anche un vero e proprio direttore artistico che il curatore dell'area fumetto che si occupa di coordinare tutti gli altri coordinatori quindi le mostre cose sono state scelte tra i due di concerto una volta entrati nei cancelli del comic con la prima sala che ci troviamo di fronte se usiamo il statutario del comic con è dedicata per l'appunto alle mostre la prima mostra che ci troviamo di fronte è quella dedicata a mike del mondo un auto un disegnatore veramente estremamente talentuoso che troviamo particolarmente i fumetti che mi hanno fatto innamorare del suo tratto sono quelli degli x-men specialmente il suo la sua versione di legion legione personaggio che avete visto in una serie televisiva veramente molto bella qualche annetto fa il suo tratto super riconoscibile super in qualche maniera elegante ma grezzo lo rendono uno degli artisti più interessanti sul panorama mondiale e le tavole che sono state presentate al comic con erano veramente eccezionali c'era anche una piccola mostra dedicata a uno dei disegnatori di spider-man across spider-verse che univano l'arte urbana a quella dei fumetti anche in questo caso un paio di tavole solo ma veramente molto interessanti al curatore al magister viene dato anche l'onere e l'onore di presentare una mostra di artisti che reputa particolarmente interessanti quelli scelti da igor sono stati veramente veramente molto interessanti ogni tavola che ha portato sul muro del comic con igor ha rappresentato un artista unico da un tratto interessantissimo con molto da dire e soprattutto i disegnatori che ha presentato avevano delle esperienze varie dei tratti veramente molto accattivanti mi sono piaciute tutte tantissimo un'altra mostra molto interessante era quella dedicata a casti uno dei disegnatori disney che ha plasmato la mia immaginazione come dicevo all'inizio ho cominciato a leggere fumetti grazie al topolino e il tratto di casti insieme a qualche altro autore disney ha veramente plasmato una generazione di lettori la sua macchia nera che sembrerà stupido ma è un personaggio che ha bisogno di un'enorme caratterizzazione riesce a saltare fuori dalla pagina e quella mostra ha raccontato tutti i suoi personaggi disney anni sembra strano ma riuscire a dare la propria impronta ai personaggi disney anni non ha fatto banale le mostre erano veramente tante c'era una dedicata ai mondi scuri e altre dedicate mi pare al giornalismo è un'area dedicata anche alle winx ma forse la cosa più interessante è che una volta superate l'area delle mostre principali c'era un'area dedicata all'artista lei alcuni artisti invitati da comicon e degli editori che avrebbero fatto degli autografi e anche portato delle commission non ve le citerò tutti ma ne citerò solo tre il primo lloyd l'autore delle matite di v for vendetta uno dei capisaldi del tratto inglese un maestro vero e proprio lo stesso castì che si è prestato ad autografare i fumetti portati da panini con il suo nome castellini decido quattro castellini grandissimo disegnatore italiano che è riuscito a portare negli stati uniti il suo tratto bonelliano però adattandolo al mitico silversarfer vi racconterò soltanto che quando sappiamo all'epoca il castellini avrebbe disegnato silversarfer eravamo tutti super emozionati perché la sua potenza delle matite avrebbero esaltato l'araldo di galactus all'ennesima potenza e così fu e poi quello che posso considerare l'ospito denore di questo comic con ovvero john romita jr uno dei miei disegnatori preferiti per lungo tempo poi purtroppo il suo stile si è un pochino appiattito e mi sono allontanato da lui soprattutto con avengers versus six man roba brutta un po così lui appartiene a una famiglia di grandissimi disegnatori john romita senior è stato probabilmente insieme a uno dei grandi disegnatori della silver age del fumetto americano i suoi tratti sono inconfondibili e ha dato a generazioni di lettori un'immagine precisa dei supereroi romita junior è riuscito a evolvere quanto fatto dal padre vi citerò soltanto il mitico devil l'uomo senza paura un fumetto che ha raccontato le origini di devil attualizzandole negli anni 90 ma che ancora oggi estremamente attuale sebbene il tratto di romita possa sembrare un pochino troppo grezzo troppo tozzo riesce comunque a dare una certa dinamicità a ogni tavola ce n'è una che ricordo particolarmente ed era esposta anche al comic con quella in cui matt mardock e elettra si tuffano in piscina queste immagini che potrebbe sembrare leggermente tozza invece ha una dinamicità e un elasticità una potenziale dinamica esagerata e ho sempre amato alla follia anche le espressioni che riusciva a infondere nei suoi personaggi una caratteristica esaltante senza poi dimenticare gli appendici alla saga del clone cane l'uomo ragno che ti toccava ti faceva sverminare oppure il panisher estremamente potente estremamente violento uscito dalla sua matita voglio citare tra le altre mostre alcune non le ho citate po perché mi dimentico un po perché ne erano tante quella dedicata alla veri forse un po sacrificata ma le illustrazioni di questo editore sono veramente qualcosa di fondamentale e bellissimo che forse in quella posizione di comic con vengono un pochino dimenticate andando per altre aree ci troviamo subito nell'area kids quella dedicata ai bambini io sono sempre molto attento a quest'area perché fa crescere i lettori di domani e anche gli artisti l'area kids offre due sale dove ci sono incontri in laboratori e alcuni incontri sono stati dedicati anche a nuovi adulti e anzi uno l'ho seguito anche io veramente molto interessante ma forse ve ne parlo quando parleremo dell'area giochi oltre ai laboratori di disegno una parete intera per disegnare colorare garfield la mossa dedicata alla scuola italiana di comics la mossa dedicata alu comics e quella dedicata al mitico concorsi mago c'era la possibilità per l'appunto di partecipare a tantissimi incontri tantissimi laboratori per far sviluppare le capacità dei vostri bambini nell'ambito di disegno e c'era anche una enorme mostra lego con altri laboratori per l'appunto dedicati alla lego andando avanti si arriva alla parte degli editori editori italiani non c'erano tutti alcuni sono venuti con pochi fumetti però diciamo che panini star comics salda press tunue e tanti altri hanno reso omaggio a comic con con alcuni bei volumi alcune belle edizioni speciali come lo spider man per l'appunto di romita o il topolino dedicato al comic con fumetti che ovviamente ho acquistato per tenermeli in cassaforte e vendere magari su vinted ma purtroppo non sono riuscito a fare fotografare nessuno dei due perché appena sono arrivato sono finiti i talloncini per gli autografi poco male anche salda presto è venuto e questa volta proprio con gli editori veri e propri non affidandosi a nessun service un vero e proprio peccato è stato vedere lo stand bau così piccolo e poco fornito un vero peccato perché bau è uno dei miei editori preferiti e quando vedo che non onora una fiera come il comic con rimango sempre molto deluso poi nell'ambito degli editori c'erano tanti altri piccoli e medi editori che portavano a volte vostre a volte altre cose veramente roba estremamente interessante è lì che di solito io perdo tutte le mie ore scartabellando e cercando di fumetti da acquistare però la mia parte preferita come ben sapete se seguite questo canale è quella dedicata all'area indipendenti cioè una serie di boff dedicato a artisti che la dirigenza di comic con reputa degni di avere uno stand nell'area self quella delle autoproduzioni per l'appunto in quell'area io ho spesso trovato gli artisti del domani per dire lì ho conosciuto il tratto di giorgio santucci lì ho comprato la prima profezia dell'armadillo di zero calcare prima ancora che arrivasse in bau quindi la preghiera che vi faccio è quella di andarci sempre a dare un'occhiata perché troverete sempre delle cose interessanti da acquistare ma anche solo da sfogliare prima di andare nella parte mercato voglio passare dall'altra parte l'area dedicata all'hajan village che sembrava quasi un comic con a parte entrate nell'hajan village la prima cosa che ci troviamo di fronte è una serie di stand e di associazioni che ci racconteranno cos'è l'asia non solo dedicata al giappone quindi ma anche alla corea che anzi in questa edizione è stata partner di comic con una parte dedicata ai cosplayer con dei truccatori che sono stati messi a disposizione a copicon per migliorare il proprio trucco un studio fotografico con un fotografo professionista una fotografa professionista e un computer per la post produzione ma la cosa più interessante era dopo un paravento c'erano dei veri e propri set fotografici che riproducevano la corea in questi set tutti quelli vestiti in cosplayer si potevano fare delle foto posate in vari ambienti ovviamente c'era tantissima gente però quelli che sono riusciti a farsi le foto hanno avuto davvero dei bellissimi set da per l'appunto per per appunto valorizzare il proprio cosplay in quest'area japan c'era oltre al mercato dove c'erano altri editori come per appunto star jpop toshokan una nuova casa editrice che opera da più o meno un annetto c'era per l'appunto quest'area mercato ricca e anche in questo caso c'era una sala dedicata agli incontri incontri per l'appunto dedicati al all'asia in generale quindi parlando di manga anime anche cosplay incontri veramente molto molto interessanti per gli appassionati e proprio alla fine del padigliore dedicato all'asia ho incontrato due di voi purtroppo non è stato possibile parlare a lungo e giocare però mi mi fa sempre piacere quando mi incontro è sempre bello schiamare quattro chiacchiere e farsi una piccola fotina proseguendo in senso avanzando vi voglio segnalare che all'interno del teatro c'era un piccolo negozietto ufficiale dello studio ghibli forse non lo sapete ma io sono un mega appassionato di miyazaki e dello studio di ghibli tant'è vero che quando siamo andati in giappone con la sportiva siamo dovuti andare in pellegrinaggio allo studio d'arte e ghibli a mitaka lì io sono impazzito e fortunatamente non avevo con me tanti soldi perché se no mi sarei preso tutto lo stand e l'avrei portato con me a casa come vi dicevo il comicon prosegue nell'area japan c'era anche alle spalle tutto una parte dedicata a un palco in cui c'era dell'intrattenimento dei cantanti delle possibilità di ballare e anche tutta una parte dedicata al food giapponese con un ponte in stile asiatico per farvi le foto veramente molto carina questa parte e anzi mi sembrava che ci fosse farsi un comicon b soltanto dedicato all'asia molto carina questa cosa sempre al comicon hanno dedicato un'area alla street art e alla cultura urban in cui ho visto artisti raccontare la propria arte ho visto con l'evoluzione della street art insomma cose interessanti non so quanto da comicon però veramente estremamente interessanti tornando al padiglione principale c'erano ovviamente tantissimi negozi dedicate al collezionismo c'era un'enorme stand pop però i falco pop erano praticamente ovunque e devo dire che sono arrivato alla conclusione che i pop hanno un po ammazzato il collezionismo per quanto mi riguarda ho sempre adorato le action figure lego anche altre tipologie di collezionismo dinamico e statico come le statue side show e ne trovo sempre meno e sempre più roba dedicata tipo falco pop è un peccato perché con x man 97 che ha riportato nei negozi le action figure mi aspettavo trovare qualcosina in più forse nel japan c'era nell'asia non c'era di più però purtroppo un po schiacciato dai falco pop fortunatamente l'area videogame non l'abbazzico perché i giochi che faccio io video giochi che faccio io non ci sono quelli piccoli indipendenti che girano con un giga di ram quindi l'ho visitato semplicemente per vedere un po landazzo c'erano tanti videogiochi tante postazioni molto e sport pure troppo e quindi poi ne sono uscito quasi subito e arriviamo a noi all'area game così come tutte le altre aree anche l'area game aveva un palco si chiama sala mordor in cui c'erano tanti incontri e tanti panel visto veramente su seguirsi tanti tanti eventi che purtroppo non sono riuscito a seguire però arrivava la cosa importante ovvero gli editori arrivato nell'area games la prima cosa che leggete c'era scritto qui si gioca ed effettivamente è così ho visto come primo stand quello dedicato ad asmodè asmodè aveva uno stand grandissimo che si divideva in due parti nella prima parte c'erano i giochi da tavola di asmodè nella seconda parte il gioco di carte collezionabili dedicata star wars unlimited purtroppo nella parte dedicata ai board game non c'erano assolutamente novità anzi l'unica novità era harmonies uscito due giorni prima di comic con e che praticamente potevo tranquillamente acquistare dagli amici di irtemis e quindi mi è sembrato quasi inutile sedermi al tavolo per provarlo ne parlavo con renato per stabilire se effettivamente valesse la pena prenderlo o meno e mi è dispiaciuto un po non vedere una novità proseguendo verso questa zona ho trovato un una piccola area dedicata alle miniature dove vi avrebbero insegnato a dipingere le miniature una cosa molto carina e che ho reputato molto utile in quella zona degli app o negli ultimi due giorni sarebbe svolta l'italian game jam di cui vi parlerò tra un attimo proseguendo c'era lo stand dedicato a tambù ovvero l'editore che coopera con comic con per l'italian game jam e in questa occasione vendeva solo esclusivamente wakari il gioco che abbiamo visto a natale e di cui abbiamo parlato con gli autori quest'estate sony e stefano ciao stefano gioco molto divertente che aveva anche un paio di tavoli di prova sempre lì l'autore della vincitore la seconda italian game jam vero l'autore di tessera avrebbe fatto provare il gioco io qui sono veramente molto in imbarazzo perché non sono riuscito a fare nemmeno una partita e me ne tolgo veramente tantissimo proseguendo ho avuto modo di conoscere incontrare i ragazzi di officina meningi officina meningi è un editore di libri game e di manuali gioco di ruolo veramente molto interessanti anzi hanno pubblicato anche recentemente o stanno per pubblicare la fuga di velia un escape game storica ambientata ai tempi del fascismo veramente una roba molto interessante di cui mi hanno parlato volentieri e che spero di riuscire a portarvi sul canale prestissimo da loro sono rimostrati molto gentili molto simpatici e mi hanno presentato un sacco di libri game e anche un sacco di manuali giochi di ruolo di cui uno scritto proprio da uno dei ragazzi presenti allo stand veramente molto interessante sulle mutazioni molto molto carino ho trovato anche gli amici di giochi uniti con uno stand bello grande pieno di giochi e fortunatamente quest'anno non hanno portato l'outlet perché ogni volta che vedo l'outlet giochi uniti mi sento un pochino come se svendessero la propria storia c'erano i love in board game che saluto con cui abbiamo giocato a card versus gravity su instagram e tic toc ragazzi è sempre bello giocare con voi proseguendo c'erano vari stand dedicati ai dadi ma soprattutto c'era gli editori di questo giochi mondi versi mondi versi ha collaborato al comic con portando sia frank mezzer uno dei game designer dietro la mitica scatola rossa di dungeons and dragon ma anche questo manuale di questa avventura per scatola rossa e true old school dedicato per l'appunto speciale per comic con e appena ho visto che c'era io mi sono letteralmente fiondato a acquistiarlo ma non solo hanno portato il manuale hanno pure hanno proprio portato menzer questo simpatico nonnino si è fermato con tutti a fermare le copie a parlare a fare quattro chiacchiere questo in realtà non è il mio ma è di un amico glielo rubato il mio è quello che c'è scritto ci vediamo around the table ovviamente ho acquistato veramente molto volentieri questo volume perché appunto era speciale per il comic con non so se riuscirò mai a giocarlo però quando vedo che c'è una volontà di portare del contenuto che non sia solo uno stand mi fa piacere supportarlo tant'è vero che ho anche acquistato il poster della scatola rossa e me lo sono fatto autografare sempre dal buon nonno frank nonno frank che ha pure partecipato a un'altra iniziativa che mi è piaciuta veramente tanto di questo comic con ovvero il ring il ring è una tradizione di comic con in cui due disegnatori si sfidano come in una gara di freestyle disegnando su stimolo di un moderatore in questo caso il ring era di un gioco di ruolo quindi quattro persone avrebbero giocato di ruolo davanti al pubblico di comic con nel pratone centrale un'idea molto carina molto divertente che mi è piaciuta tantissimo e spero che si possa allargare anche giochi da tavola magari con un torneo chi lo sa quindi mi è piaciuto davvero tanto acquistare questi volumi e supportare le persone che hanno veramente creato un interesse per comic con oltre a mondiversi e a frank menser c'era anche una piccola mossa dedicata a dungeons and dragon con tutto il materiale d'archivio di varie edizioni antiche per appunto per i 50 anni di dungeons and dragon c'erano i manuali c'erano tantissimi manuali c'erano gli action figure c'erano gadget c'era il gas di dungeons and dragon in cui creare le miniature insomma c'era veramente tanta tanta roba altro editore che non avevo mai visto a comic con ma mi hanno detto c'era sempre stato era acheron che ha portato l'autore di brancalonia che avrebbe gestito una sessione proprio durante comic con e oltre alla sessione hanno portato anche una piccola mostra per l'appunto dedicata a brancalonia una delle ambientazioni più divertenti del mondo se disco disco mondo disco è quella più divertente in assoluto a brancalonia probabilmente è la seconda tanti manuali anche da loro proseguendo vi dicevo che c'era lo stand di asmoday con star wars unlimited e tantissimi tornei per giocare in varie modalità sia per imparare sia per quelli già esperti che avrebbero dovuto acquistare i pacchetti di carte comunque molto interessante anche questa cosa fortunatamente con il troublemaker siamo riusciti a non farci catapultare nel mondo delle carte collezionabili se no era veramente finita c'era anche tops che presentava il suo gioco di carte collezionabili dedicata al mondo del calcio però vi devo dire non mi è piaciuto tantissimo mi sembrava una minima evoluzione delle carte aderano in xl di panini avrei preferito qualcosina più strutturale anzi a voi piace il calcio vi piacerebbe un gioco più strutturale forse uno dei giochi che sono tentato di sviluppare chissà però in questo stand era possibile creare la propria figurina con la propria faccia che noi non abbiamo fatto proseguendo c'era un grande stand dedicato di cosmic group con tanti tavoli di trova per dungeons and dragon anche in quel caso si potevano dipingere di miniature c'erano tantissimo c'era tantissimo materiale sia come gumpla che come materiale di asbro quindi hero quest le espansioni è veramente un'offerta molto interessante segnalo anche la presenza di red glove con il catalogo per famiglie red glove e quello per esperti di tesla game però anche questo caso purtroppo non c'erano novità ho trovato molto bello che raven's burger avesse portato uno stand veramente enorme pieno di giochi tantissimi giochi tantissimi tavoli di prova e spero che sarà una consuetudine anche per i prossimi anni e anche in questo caso c'erano tornei di l'orcana quasi ogni ora dove si vincevano belle carte bei gadget e anche in questo caso fortunatamente l'amico trouble maker non è stato trouble maker ma è stato save maker mi è stato peacemaker mi ha salvato mi ha tolto perché se no mi sarei messo a giocare avrei speso tutti i miei soldi in carte collezionabili molto bello da parte di raven's burger essere presente a comic con con tantissimi tavoli di prova e tantissimo materiale c'era anche raven con una serie infinita di manuali libri game giochi da tavolo neanche questo caso sono stato molto contento di ritrovare raven al comico ne spero che anche altre persone abbiano avuto modo di recuperare del materiale che gli mancava a farla da padrone però nell'area game era il mega dungeon questa specie di castello questo vero e proprio castello che specie di castello dove c'erano tantissimi tavoli di prova per diversi giochi di ruolo in cui si poteva giocare anche vincere tra l'altro un amico ha vinto questo io glielo ho recuperato o glielo ho rubato non lo saprete mai purtroppo io non sono mai riuscito a prenotarvi perché ogni volta che arrivavo la fila era già chilometrica dovevo fare anche altro come vi dicevo c'erano diversi panel e questi panel li ho quasi alcuni panel li ho seguiti non si può seguire tutto quindi perché se vuoi fare le file per farti fare gli autografi se vuoi fare le file per comprare le cose se vuoi fare le file per fare qualsiasi cosa non puoi fare tutti i panel ce n'erano tantissimi e uno di quelli che ho seguito più volentieri si è svolto in area in area kids ed era tenuto da spartaco albertarelli che sulla scorta della storia delle carte delle carte da gioco in questo caso le carte italiane ci ha raccontato mi ha raccontato molto della storia sia del gioco di per sé sia dell'alea sia della storia sia della storia vera e propria industriale e non dell'europa francia italia un incontro molto bello peccato che sia stato poco pubblicizzato ma devo dire ricco di spunti di riflessione vi dico soltanto che alla fine di tutto il ragionamento ci ha invitato a fare un un esercizio mentale praticamente lui ci ha raccontato che gli italiani raccontano la storia e questa storia ce l'ha raccontato lui stesso lui ha chiuso l'incontro con una provocazione o forse una sfida quella di reinventare le carte italiane quelle francese sono state reinventate più volte sono diventate anche di oggetto di merchandising puro quelle italiane no e lui ci ha invitato a fare questo gioco mentale io ci sto riflettendo da un paio di giorni a questa parte era mi pare il sabato e non sono ancora riuscito a capire che storia raccontare con queste carte ma è molto interessante comunque di incontri ce ne sono stati veramente tanti e veramente cose molto interessanti sul gioco di ruolo sul gioco di per sé insomma veramente incontri molto interessanti anche quest'anno al comic con c'era l'italian game jam quest'anno soltanto due giorni ma con una fase preselettiva che è cominciata un paio di giorni prima di comic con in quell'occasione i partecipanti hanno mandato un pitch questi pitch sono stati vagliati dalla giuria che ne hanno selezionati quelli che poi sarebbero venuti il sabato e la domenica al comic con ad aprire la white box di tambù per provare a sviluppare il gioco di quel pitch alcuni di questi game designer hanno dovuto ricominciare da capo una volta ai tauri di legata l'italian game jam e altri hanno continuato a sviluppare grazie ai la guida e ai giudizi di spartaco albertarelli dario massa luca coppola e l'opresti di tambù che oltre a essere i giudici erano anche una sorta di tutor alla fine il vincitore non ve lo svelo vi chiedo di andarlo a cercare sul sito di comic con ma era una nostra conoscenza una persona che abbiamo incontrato a idea g complimenti non scrivere chi sei fatti cercare dai dai colori quali vedranno questo video ancora una volta l'italian game jam è stata un'esperienza molto interessante ho visto veramente tanti ragazzi impegnarsi ragionare pensare e chi ha seguito un pochino a round table durante il comic con sulle stories di instagram ha visto la preparazione della gem però anche mi pare che vi ho fatto vedere qualcosa molto molto è sempre molto bello vedere la gemme anzi sono sempre contento che comic con abbia cominciato questa tradizione che poi pare che verrà ripresa anche al modena play quest'anno non ho voluto provare giochi o meglio non li ho voluti riprendere perché c'erano veramente pochissimi giochi nuovi o che non avevo un conoscevo e presentarvi soltanto uno o due giochi mi sembrava poco e mi sembrava irrispettoso nei confronti di altri editori che magari avevano portato cose però io non ero riuscito a provare quindi quest'anno non ho fatto me l'anno scorso però era anche l'offerta che non funzionava c'era un gioco in prova sì nuovo ed era nucleon di cranio però cranio non era presente con lo stand ed era in una posizione un pochino scomoda e mi sembrava un po indelicato verso gli editori che veramente erano stati presenti in fiera poi presentare quello di quelli che non c'erano tra l'altro mi pare che non si potesse nemmeno comprare avrei preferito per l'appunto provare ad esempio harmonies ma se l'avessero portato in anteprima è sempre questo il problema che ho con comicon e con gli editori che vengono a comicon il fatto che non portino mai delle novità vere ora ti dico facciamo finta che lo distribuite lo stesso però raccontate che lo portate in anteprima a comicon lo scorso anno it è stato portato è stato distribuito ufficialmente un giorno dopo comicon e l'ho trovata veramente assurda questa cosa mi ha anche un po offensiva tra l'altro mi dispiace sempre perché c'è la vulgata che comicon non sia una fiera per giocatori però le file per mezzo c'erano le persone che hanno acquistato i bellissimi dadi di comicon c'erano in realtà anche questo non l'hanno comunicato bene che c'erano dei dadi da acquistare però se diciamo che comicon è una fiera non per giocatori e quindi gli editori non portano i giochi però visto che gli editori non portano i giochi i giocatori non ci vanno diventa sempre questo cane che si morde la coda che non porterà a nulla le cose ci sono ho visto una fila visto file chilometriche per provare i giochi ho visto file chilometriche tantissime persone anche provare i giochi nell'area dedicata all'associazione all'esterno gente che giocava avanti indietro quindi in realtà lo spazio per il gioco a comicon c'è il mega dungeon quest'area esterna di cui non vi ho parlato molto carina i primi due giorni a comicon ha piovuto però gli altri due sabato e domenica c'è stato il sole c'era questo spazio esterno dove nelle associazioni facevano provare i giochi era molto carino vedere le persone all'esterno che giocare io ho giocato a un paio di giochi che già conoscevo ma giusto per riposare stanche membra con degli adulti delle persone di ogni età che avevano fame di gioco quindi io trovo sempre assurdo venire in fiera e poi non e poi non portare le novità perché parliamoci chiaro noi appassionati di board game siamo un po così cerchiamo l'esperienza cerchiamo la volontà di provare qualcosa di nuovo e poi dopo due giorni lo vendiamo lo scorso anno it uscito praticamente due giorni dopo comicon era già su vinted praticamente i giorni di comicon sinfone dreadful gioco che ho provato di cranio lo scorso anno uguale era era su vinted il giorno dopo comicon cioè purtroppo è una roba che non non funziona tantissimo tra l'altro il fatto di aver separato l'ajan quindi tutti i cosplay non tutti una buona parte di cosplayer averli separati dal corpo principale della fiera permette anche di non avere il problema ci sono i cosplayer danno fastidio in realtà nessuno dà fastidio a nessuno se c'è la volontà di giocare uno si fionda direttamente nel mega dungeon la mattina fa la fila oppure per provare i giochi però il problema che gli editori dovrebbero portare questi sono soltanto un po di cose che di mie sensazioni sul comicon offerta artistica comunque anche quest'anno di alto livello grande grazie a mondiversi e a comicon che hanno portato menzer che è stato super simpatico mi sono fatto le foto con lui si è fermato a parlare era disponibile sorrisi a dimostrazione che effettivamente a napoli al comicon vengono i giocatori ma a questo punto mi interessa sapere da vu a ultima cosa un saluto a tutti quelli che domenica mi hanno urlato la morte nelle mani per avere l'adesivo e siamo pronti a giocare pochissimi devo dire la verità non vi preoccupate non vi metto nelle facce da comicon che esattamente come lo scorso anno arriveranno sui social e sono già arrivate penso in questi giorni sui social verticali quindi su tik tok instagram e negli shorts di youtube se vi riconoscete taggate vi raccontate anche agli altri chi siete around the table a questo punto mi interessa sapere da voi cosa ne pensate di questa edizione di comicon come secondo voi si possono attirare più board gamer al comicon e come si fa a convincere i tuoi a portare le novità a comicon ovviamente mi invito a scrivere tutto qui in un commento su youtube ma anche su facebook instagram tumblr twitter x bluesky reddit e tutti gli altri social che operiamo a questo punto non resta altro di salutarci per trovarci sempre qui sempre around the table si non a comicon ciao a tutti